ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale quello post diretta del sito perline fimo in co qui davanti vedete in bella mostra le novità ai kit che sono stati presentati venerdì durante la diretta quindi ora a spacchettiamo insieme vediamo il contenuto primo kit che vi mostro quest'oggi è un kit di rivoli alta qualità ecco qua la prima colorazione guardate che meraviglia questo è il retro sono da 14 mm in questo caso nel kit trovate infatti tre coppie da 14 mm e un rivoli da 18 allora questa è la prima colorazione andiamo con la seconda eccola qua guardate che spettacolo questo è il retro procediamo con questa guardate che meraviglia questo color mente bellissimo guardiamo appunto anche il retro anche in questo caso meravigliosi e per finire in questo piccolo kit abbiamo questo bellissimo rivoli guardate lo faccio vedere fra le mani un rivoli da 18 sempre alta qualità guardate lo spessore anche in quello da 18 è veramente sottilissimo questo è il retro sono fatti benissimo lo sappiamo ormai è già da un bel po che analizza si è abituati a questi nuovi rivoli e devo dire che sono veramente favolosi e questo è appunto 18 mm speriamo che amplierà il sito con altre colorazioni di questo formato bene ora sposto rivoli e procediamo con il resto prossimo kit che vi mostro è un meraviglioso kit di zoli duo vi mostrerò ovviamente solo un lato metto qua l'altro lato ovviamente sapete che vanno sempre via di pari passo quindi li troviamo un lato e questo è il dato che vi mostrerò ora per farvi vedere le colorazioni sono 20 pezzi per ciascun lato e analisa oltre ad essere arrivate colorazioni che ha inserito da sito in quanto erano presenti nella recente valigia di zoli duo che è una perlina che amate tantissimo quindi ha assortito alcune colorazioni che erano presenti nella valigia delle zoli duo appunto ritrovate sul sito vi consiglio sempre di andare a sbirciare anche appunto tutti i nuovi prodotti per vedere appunto quegli inserimenti mentre qua ha realizzato un kit con altre colorazioni allora parto da questa che è una colorazione che adoro guardate che meraviglia questa mette a fuoco ok questa colorazione emeralda b spettacolare ovviamente come sapete lo ripeto ogni volta i vostri kit riporteranno tutte quante le etichette per riconoscere la colorazione e quant'altro allora ecco forse avere avere lì mi mette fuori fuoco quindi comunque sapete che nel kit abbiamo entrambi i lati io vi mostro per praticità ovviamente soltanto un lato perché i colori sono uguali procediamo con questa colorazione abbiamo tre colorazioni ecce delle prossime che sono veramente qualcosa di spettacolare ecco qua guardate che meraviglia questa colorazione è una delle colorazioni che amo di più sono state presenti ancora alcune di queste colorazioni super linee si manco però meno recente della recente maligia ecco però proprio per questo analisa decido di ha deciso di inserirle in questo meraviglioso kit di zoli duo questi sono colori veramente particolari sempre sempre amati procediamo con la prossima colorazione che sempre come vi dicevo una colorazione ecce ed eccola qua anche questa è meravigliosa guardate che spettacolo dovrebbe essere vitra il eccedo qualcosa del genere meravigliosa poi sempre ecce ed abbiamo un cristal a b che anche questo è qualcosa di favoloso guardate che spettacolo come sbellucica bello bello poi abbiamo questo guardate che bello questo colore adoro abbiamo di davanti 4 colorazioni questa è la quinta in tutto sono otto meravigliosi colori procediamo con questo su bel grigio guardate che bello abbiamo poi guardate che meraviglia questo bella copper fantastico sono appunto colorazione che abbiamo già visto in passato sul sito ma come vi dicevo non recentemente quindi analisa proprio pensato di fare una bella cosa di farvi di proporvi questo kit che come sapete sono sempre proposte ad un prezzo vantaggioso la possibilità appunto di fare una bella scorta di colorazioni procediamo con l'ultima colorazione che guardate che spettacolo ho iniziato con una delle mie preferite ho finito anche con questa che adoro alla follia questa colorazione mi piace un sacco bene questo quindi sono il kit con le otto colorazioni di zoli duo ovviamente io vi ho fatto vedere solo un verso ma come vi ho anticipato il kit comprende entrambi i versi quindi 20 zoli duo per ciascun verso per ciascun verso per otto colori quindi io ora sposto il kit di zoli duo e vi mostro il prossimo kit prossimo kit di quest'oggi è un kit di uib e duo con colorazioni veramente wow iniziamo subito a visionarle allora partiamo da questo colore fantastico guardate come sempre sono 20 pezzi per ciascun colore e questa è una colorazione della finitura ice guardate che spettacolo questo colore sappiamo tanto di moda anche per la prossima stagione primavera estate la stagione che abbiamo appena iniziato quindi wow veramente ha un effetto poi lavorato meraviglioso questo colore bene procediamo con le prossime colorazioni mi piace sempre farvele vedere fuori dalla bustina per una resa migliore quindi ora procedo col mostrarvi tre colorazioni dalla finitura ionic molto molto primaverili guardate che meraviglia questo bel fucsia abbiamo la tipicità della finitura ionic che ha questo effetto craquel e dove sotto venia vediamo le crepe e dove sotto vediamo un altro colore a contrasto in questo caso il rosso poi sempre ionic altrettanto primaverile estivo arancione guardate che meraviglia anche in questo caso abbiamo l'effetto craquel e ovviamente e le crepe hanno lasciando intravedere anche in questo caso direi il rosso procediamo con un colore che mi piace da impazzire se state che inverno direi la colorazione ionic che preferisco ovvero questo giallo tenue e anche qua abbiamo le nostre crepe che lasciano intravedere un tono di rosso direi anche qua bellissime adoro ecco qua la quarta colorazione in tutto sono sette colori quindi anche qua un bel un bel kit scorta di weave duo guardate cosa non è ecco qua questo meraviglioso oro rosa anche lui se non erro è l'effetto ice guardate che spettacolo che luce procediamo guardate che meraviglia bellissimo anche questo colore e per finire l'ultima colorazione eccola qua guardate anche in questo caso che spettacolo di colore non vedo l'ora di utilizzarle bene questo quindi il kit di weave duo ora sposto questo kit e rimosso il prossimo prossimo kit altra perlina molto in voga ultimamente la vexolo quindi altro piccolo kit di vexolo sono in tutto 5 colorazioni e ogni colorazione contiene 30 vexolo e parto da questo colore che è una meraviglia un'altra delle mie colorazioni preferite una delle tante colorazioni che amo guardate che spettacolo infatti spero che torna anche presente fra le zone 2 questo colore perché mi piace tantissimo poi abbiamo poi questa meravigliosa colorazione pastel ovvero il pastel emerald guardate che meraviglia il pastel petrol ecco qua un'altra colorazione che amo da sempre guardate che meraviglia altra colorazione pastel che dovrebbe essere se ricordo bene il pastel burgundy meraviglioso anche lui e per finire quest'ultima colorazione favolosa eccolo qua guardate che meraviglia questo bel viola e questo è il kit di vexolo eccolo qua vi lascerò come di consueto ovviamente tutti quanti i link di riferimento qui sotto nell'info box quindi io vi ringrazio per la visione di questo video per qualsiasi domanda non esitate a scrivermi qui sotto io ringrazio come sempre analisa per la sua ospitalità durante le dirette e ringrazio voi che è oltre a seguirmi qua sul canale molti di voi seguono appunto anche le dirette del venerdì direttamente dal sito di perline fimo un co direttamente dal magazzino quindi io grazie veramente di cuore e ci vediamo alla prossima ciao ciao